Il nostro gruppo di lavoro ha studiato per anni il melanoma metastatico che era ritenuto un tumore aggressivo fino a qualche decennio fa. Adesso tuttavia lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici ha reso questa malattia sempre più curabile. Tuttavia un problema grande esiste dello sviluppo di resistenza per cui i pazienti non rispondono più a delle terapie che sono attualmente in uso. Il nostro gruppo di lavoro ha lavorato ultimamente sui microRNA che sono dei piccoli RNA non codificanti e dei quali la cellula tumorale deve liberarsi per diventare resistente al trattamento. Quello che abbiamo dimostrato è che è possibile andare a misurare queste molecole nel sangue dei pazienti per distinguere i pazienti che avranno un miglior beneficio dalle terapie attuali in uso per il melanoma e dall'altro lato è possibile rintrodurre in maniera artificiale utilizzando delle nanoparticelle lipidiche questi microRNA all'interno delle cellule tumorali. Questo approccio è molto simile a quello che è stato utilizzato negli ultimi anni per la lotta al Covid-19 per lo sviluppo dei vaccini ad RNA. Nello studio viene proposta una nuova strategia terapeutica che si basa sull'utilizzo di piccoli RNA in grado di ridurre il tumore al seno triplo negativo in modelli sperimentali. Questo specifico microRNA è il MIR 182 3P che ha come bersaglio molecolare la proteina TRF2. Questa proteina è abbondante nella maggior parte dei tumori e in particolare nel tumore al seno triplo negativo. I risultati di questo studio sono merito di una stretta collaborazione con centri di ricerca italiani e anche internazionali ma ulteriori studi saranno necessari per portare questa strategia terapeutica fino al letto del paziente. In particolare per quei tumori che non assaglio molecolare come il tumore al seno triplo negativo. Nell'ultimo decennio sono stati fatti notevoli passi avanti nello studio della cura dei tumori. Infatti nuove tecniche di diagnosi e nuovi trattamenti sempre più all'avanguardia hanno fortemente prolungato l'aspettativa di vita di un paziente oncologico. Purtroppo però può capitare che alcuni di essi possono andare incontro a una recidiva di malattia o a metastasi dopo diversi anni. E proprio in questo ambito, nello trattamento delle recidive che sono molto spesso più resistenti al tumore iniziale che si è concentrata la nostra ricerca. Abbiamo individuato piccoli pezzi di RNA che sembrano svolgere un ruolo importante nella regolazione di proteine in grado di bloccare la crescita tumorale. Per il momento la nostra ricerca è stata condotta nel tumore della testa del collo e con il trattamento con alperisib ma abbiamo come obiettivo quello di estendere la nostra ricerca su altri tipi di tumore e altri tipi di terapie anche standard come radio e chemoterapia.